Ritorna dopo due anni di stop il Che Festival 2022, musica, teatro, cabaret, esibizioni sportive, incontri e l'immancabile galleria dedicata allo street food genovese ed internazionale. Una città nella città, 12 giorni di divertimento, informazione, solidarietà e cultura, con un doppio obiettivo, divertire e comunicare facendo sentire i partecipanti parte attiva dei progetti di Music for Peace. L'edizione del 2022 è la decima edizione? La decima edizione dopo una pausa costretta di due anni, l'ultima edizione era quella del 2019 e quindi ricominciamo tutti insieme quest'anno. Si riparte dal 1 giugno fino al 12 giugno, quali sono le regole e gli eventi che faranno parte di questa manifestazione? Allora, il Festival come anticipato inizierà e inaugureremo l'1 giugno alle 18 e terminerà il 12 di giugno. Tutti i giorni saremo aperti dalle 14 a mezzanotte. La regola fondamentale, ma che ormai tutti voi conoscete, è il biglietto d'ingresso regolato da generi di prima necessità, quindi è sufficiente portare una gomma, una matita, una scatola di paracetamolo o una scatoletta di tonno e questo è il costo del biglietto d'ingresso. La formula è sempre la stessa ormai da 10 edizioni, che cosa cambia rispetto alle ultime edizioni? Sicuramente la voglia di ripartire dopo la pandemia? Cambia la voglia di ripartire, la voglia di uscire da parte delle persone, dei ragazzi e dei bambini, perché ricordo anche che il Festival non è solo musica, ma il Festival è dedicato ai bambini, infatti la prima parte del pomeriggio, dalle 2 alle 16, tutti i giorni ci saranno laboratori e attività ludico-ricreative e formative per bambini e ragazzi, dopodiché grande importanza come sempre è stata data alla cultura, infatti avremo almeno due presentazioni di libri ogni giorno in Piazza dei Diritti e dopodiché ci sono molto importanti gli approfondimenti e dibattiti con varie tematiche trattate dall'ambiente alla cooperazione internazionale, alla solidarietà e alla geopolitica. Quindi vi aspettiamo tutti il primo giugno alle 18 e alle 21 ci sarà il concerto, apriranno la manifestazione i Marcellos, i Five Face e i fratelli di Soledad.